La verità è che nascondete qualcosa là fuori. Ed è qualcosa che ci rimanderà all'età della pietra! Che Dio ci aiuti! Nel 54. Abbiamo risvegliato qualcosa. Tutti quei test nucleari nel Pacifico... ...non erano test. Cercavano di ucciderlo. Voi non avete idea di che sta arrivando. Si può uccidere. L'arroganza dell'uomo è pensare che la natura sia sotto il nostro controllo. E non il contrario. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Grazie a tutti.